Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Cerce Maggiore, in provincia di Campobasso. Marco Distasi, un ragazzo di 16 anni, ha perso la vita dopo che l'auto guidata dalla sorella 23enne si è scontrata con un muretto e si è ribaltata, finendo fuori strada. L'incidente è avvenuto questa mattina, sabato 29 giugno. Marco era seduto sul sedile del passeggero, mentre sua sorella maggiore conduceva il veicolo sulla strada statale provinciale 161, che collega con Trada Mascione di Campobasso con il comune di Gildone. La loro Suzuki ha improvvisamente impattato contro un muretto al bordo della carreggiata, causando la perdita di controllo e il successivo ribaltamento del mezzo. I soccorsi sono giunti rapidamente sul luogo, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118 hanno prestato assistenza. La sorella di Marco è stata trasportata all'ospedale in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. Purtroppo, il giovane è rimasto intrappolato tra le lamiere, e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un velo bianco è stato steso sull'auto per coprire il corpo di Marco, e i familiari sono stati chiamati sul posto per affrontare la tragica notizia. La comunità locale è sconvolta da questo ennesimo incidente mortale sulle nostre strade.